Ciao Andriani, potresti evitarmi a far crescere il mio canale? Sì, mi sono fatto sponsorizzare, ora ho due iscritti, poi si sono disiscritti perché io non facevo video, ho capito, però quando Andriani mi ha sponsorizzato sono arrivato a 1700 Io ho scritto Luca Casadei, sono uno youtuber emergente, mi potresti aiutare a far aumentare il mio canale? Tino, ma l'ha disinstallato Adblock? Se ce l'hai installato non ti puoi sponsorizzare da Andriani No? No, ora mi incattiscono, sono iscritti solo a Solvopiut, qualcuno è andato a spifferare Sono stati gli admin di questa pagina, il meglio e il peggio della community italiana di Youtube E come sono riusciti a scoprirlo? Eh, non lo so Tu... Sapete, no? Mi lascia... A meno che... No, adesso mi incazzo Minchia, 64 iscritti, grazie Aspè, facciamo 65 Eh, 100 poi Conoscete Scott X voi? Sì, ma è in chat con voi a volte Magari chissà, ora spunta da un momento all'altro È simpatico, Sio Ma va, fanculo Tino Boom, fatti intervistare da di pre Ah, comunque siccome io ho Sio tra gli amici, gli ho detto di venire qua in questo server Veramente? Minchia, ci veramente, Scott X Forse Sio ti fa un po' di pubblicità, chiedigli No, non credo, comunque... Lo saluto, lo chiedo al massimo Sio, mi fa un po' di pubblicità No, sì, mi chiamo Tino Boom Oh, c'è Franco Matano Nooo, ciao Frank Oh, ti ha fatto una proposta, Scott X minchia Aspetta, se urli Dottore Culo Cane in sette La misura massima del perfetto Fuori dal balcone in mutande Ti sponsorizzo Guarda, sono in mutande Non c'è il balcone accanto Apro la finestra Vai, fanno Ok Dottore Culo Cane in sette La misura massima del perfetto Oh, per ora, mantieni la tua parola, Scott X Mi sponsorizzi Sì, ma tra un anno No, ma guarda che in Giappone l'anno finisce Tipo la settimana prossima, quindi Ok Mi se fosse mia madre mi direbbe Che sono diventato un nerd Perché è morta Ora, non ti mi sponsorizzi, Frank Certo, dai Sponsorizzami E quando fai il nuovo gameplay? Sì, sì A me va benissimo che mi sponsorizzi Nel prossimo gameplay di GTA Allora iscriviti Iscriviti Sponsorizzami E iscriviti anche Iscriviti Vado subito a vedere Eh? 66 iscritti Non si vede Ok Ok, sono il fratello di Gesù Va benissimo A me va benissimo Va benissimo Grazie mille Comunque Frank Frank Almeno puoi mettere Mettere qualche commento positivo Nei miei video Per favore Che ci sono alcuni Che mi stanno pigliando per il culo Così a me non dico No, misto C'è Frank Matano Così hanno ancora più invidia Ok, comunque Tu prova a commentare Per favore Dai, dai Su Never Parodia Per favore Frank Io non avrei mai pensato Di parlare con Frank Matano E Scotex Però Oh, ma non è vero Però non c'è il commento Frank No, hai presente le cose Delle 301 Visual Deve ancora caricarlo Credo Aspetta un attimo Che chiamo subito Mia madre Un secondo Che il video Si c'è Non hai Porca troia Mamma satana Mamma satana Devo chiamare Dai Fuggiamo Fuggiamo Ah, mia Anche Daniele Doesn't matter Oh, Daniele Fai qualcosa Non lo so Sponsorizzami Anche tu Aspetta Aspetta Che la chiamo La chiamo Dai Oh, yeah Merda, no Una segreteria telefonica No, Jacopo Pantellas Poi E che in tutto il mondo C'è su posto posto Sono famosi Mamma, mamma Mamma Veloce, veloce Allora Dio a Scottex Che è vero che posso Che mi può mettere Nel prossimo video Scottex è quello Che fa i viaggi Di Giappone È quello famoso Valentino Io stai lavorando Che cosa succede? Allora Io Ho tra gli amici di Facebook Scottex, no? Si E praticamente Mi ha chiesto Se potevo uscire In un video Ma mi serviva Che tu gli davi il permesso Ma cosa? È un video comico Quello delle vignette Mamma È quello che fa Il viaggio del Giappone In bicicletta Si Cosa succede? Devi dirgli Eh bravo Si è tolto Ah no Non si è tolto ancora Ehm Che Praticamente Devi dirgli Che Lui Che io posso uscire Nel prossimo video No 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 Devi farlo ora Devi dire Che devi uscire Nel prossimo video Ma dove lo fanno il video? Ma no Ma no Fanno una vignetta Con me Come se fossi Hai capito? Prendere una foto E la fanno in stile vignetta Quando? Mamma Non farmi tutte ste domande Per favore Di che posso uscire Adesso uscire di casa? No mamma No Uscire nel video Di scottex E nel video? Ma dove lo fanno il video? Il video Lo fanno al computer Ok Ti sei a casa Quindi? Eh? Si Posso fare il video Mi lasci Mi dai l'autorizzazione Mi lascio Però Devo vedere che il video Poi Che sia un video Perché sennò Si mamma Grazie Ok Ciao 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 Ha detto di si Scottex Ma Io sono ancora Vi cerca di Biada Eh ma Ti devi fare sponsorizzare Anche da casa dei Sì ma Per ora Iniziamo In campionino Oh mio dio Ci Yotobi Quale onore No Yotobi no Yotobi recensisci i miei video Ma Yotobi non penso che ti conosce Prima ti Ti devi presentare Sono nottino boom Si che sono nottino boom Se stanno iscritti ti conoscono un po' tutti Frank Comunque se vuoi Fammi pubblicità su facebook Eh No senti ma tu riesci a uccidere Gianni e Pinotto Non credo Ok grazie Frank Sulla tua pagina ufficiale Se non c'è ti ammazzo di bocca Ora mi concentro Tino Ah allora no Tino ma c'è Luke 4316 E chi è? Ehm Yotobi Ma in che senso mi vuoi mettere nel prossimo mostarda? Allora Mi presenti il negativo O il negativo Positivo Yotobi Il negativo no 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 Positivo sì E perché E perché Sero batman? Io anche Mi centro con batman Minchia Fabi J Comunque se vuoi Iscriviti al mio canale Io a Tobi Comunque ora mi concentro Su Fabi J Bella a tutti ragazzi Come butta Fabi Minchia Minchia Ma voi mi state pigliando per il culo per caso Cosa Cosa Minchia Che fai tu Minchia Ci danni Pantellas Sì ma perché Perché Questa non è una serata youtuber Secondo me State prendendo in giro Favi 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 J O tu è Favi Allora Comunque Johnny Johnny Vivitino Boom Su Youtube Ma perché nessuno Quelli famosi Hanno la voce Oh Mi sponsorizzi il canale Sono un tino boom mio